Cara comunità di fedeli, Una delle profezie più importanti per il nostro tempo, è rimasta praticamente sconosciuta, per oltre un secolo. Non perché fosse nascosta, ma perché non parlava di catastrofi naturali, guerre apocalittiche o eventi spettacolari. È curiosa la natura umana. Tendiamo a prestare attenzione, solo alle profezie che ci parlano di grandi drammi e calamità, mentre spesso, trascuriamo quelle che, nel loro apparente silenzio, nascondono verità, che potrebbero cambiare il corso della nostra vita spirituale. La profezia di Marie-Julie Jenny del 5 agosto 1878, è proprio una di queste. Mentre il mondo era, ed è, affascinato da visioni di terza guerra mondiale, «Catastrofi naturali e segni nel cielo», questa mistica francese ricevette un messaggio. Questo messaggio, parlava di qualcosa di molto più profondo e, per certi versi, più inquietante. Una profezia che, come vedremo, si intreccia in modo sorprendente con le rivelazioni di Garabandal, e le recenti profezie di padre Michel Rodrigue, formando un quadro, che solo oggi possiamo iniziare a comprendere pienamente. Perché si parla di imminenza di un evento profetizzato quasi 150 anni fa? Se argomenti come questi vi interessano, vi chiediamo un mi piace al video per sostenerci in questa nostra missione di divulgazione. Grazie di cuore. Per capire la portata della rivelazione che vi presentiamo oggi, dobbiamo prima parlare di una figura straordinaria, che la storia della Chiesa ci ha donato. San Vincenzo Ferrer. Questo santo domenicano del XIV-XV secolo, non era solo un predicatore eccezionale. Era un vero taumaturgo, con circa 900 miracoli documentati al suo attivo. Tra questi, spiccano 28 resurrezioni confermate. Un numero, che da solo, basterebbe a renderlo una figura unica nella storia della Chiesa. Ma c'era molto di più. San Vincenzo, viaggiava per l'Europa occidentale, seguito da una vera e propria carovana di fedeli, predicando dalla Spagna all'Irlanda. Il suo dono più straordinario, era la capacità di farsi comprendere da chiunque lo ascoltasse, indipendentemente dalla lingua madre dell'ascoltatore, nonostante parlasse solo il suo dialetto spagnolo. La sua voce, secondo le testimonianze dell'epoca, poteva essere udita a distanze impossibili, per le normali capacità umane. Un episodio particolarmente significativo, riguarda il suo titolo di quarto angelo dell'Apocalisse. Quando alcuni scettici lo sfidarono su questa designazione, la sua risposta fu straordinaria. Chiese che gli portassero il corpo di qualcuno morto da almeno quattro giorni. Quando il corpo gli fu portato, non solo lo resuscitò, ma la prima cosa che questa persona fece, fu proclamare che San Vincenzo, era effettivamente il quarto angelo dell'Apocalisse. È in questo contesto di autorità spirituale e potenza miracolosa, che dobbiamo inquadrare la profezia di Marie Giulie Gianni. Durante la sua estasi, del 5 agosto 1878, ricevette un messaggio proprio da San Vincenzo Ferrer, che oggi, appare sorprendentemente attuale. Se credete nelle profezie di Marie Giulie Gianni, scrivete adesso nei commenti. Io credo. Amen. Questo è ciò che accade. Le anime, oggi, sono molto più deboli di prima. La fede dei pastori non è del tutto pura, perché la loro carità non è unica. È accompagnata da una sorta di male, chiamato la piaga della degradazione. È la mancanza di carità, è la mancanza di rispetto che dovremmo tutti avere l'uno per l'altro. Poiché siamo tutti figli dello stesso padre e della stessa madre, la Beata Vergine. Dio non colpisce ancora, egli attende e, nell'attesa, soffre da ogni parte, ma prepara, e aspetta a lungo il ritorno delle volontà sincere. Comincio dicendo una parola, ed è questa. Se i pastori, e le anime affidate alla dolorosa responsabilità di quelle anime create da Dio, non cambiano, se non si conformano nella fede perfetta, se non si conformano nella carità ordinata da Dio, e la ordinano soprattutto riguardo a se stessi, Dio farà presto vedere in loro, e attraverso di loro, un soggetto di scandalo. È così che Dio sta preparando. Nella grande sorpresa, dei suoi inscrutabili disegni, Dio manderà loro, con il suo potere divino, un serio avvertimento, che sarà ovunque, contemporaneamente. Si troverà, anche con quelle anime che devono seguire la linea retta data dai pastori. Dio colpirà in segreto, colpirà in pubblico, perché Dio si lamenta da tempo, con tanta forza, che è impossibile comprendere il modo di queste lamentele, poiché sono rigorose, e mescolate alla giustizia. Pronuncio questa parola, che è molto terribile, perché Dio mi chiama, e Dio lo vuole. Qui, ai piedi della croce, posso affermare in nome di Dio, che Dio è mille volte più confortato dalle molte anime che non hanno dipendenti, che vivendo nel mondo, non sono nel sacerdozio, ma vivono bene nel loro stato. Dio è mille volte più confortato da questa parte, che da molti dei suoi servi, impegnati nei dolorosi sentieri della direzione delle anime sulla terra. Parlo dei ministri di Dio. Dio non può più sopportare a lungo così tante offese, ingiustizie, infamie, e tanti crimini velati. Se oggi sapeste quanti sono, i crimini nascosti agli occhi delle anime e del corpo di questo mondo, sareste terrorizzati. Dio vede, Dio sa, Dio giudicherà. Coraggio, non ci spaventano, ma la parola di Dio non sarà trattenuta ancora a lungo. Fate attenzione a questa parola. Quanto dolci sono le vie della croce, quando sia Dio come padre e come sostegno. Cosa possiamo temere, quando facciamo la volontà di Dio, e quando conserviamo la pace tra le onde della persecuzione e dell'angoscia. Questo è il vero carattere delle operazioni di Dio in noi. È pace, e godimento di pace, è calma e coraggio, che esistono dentro di noi. Vorrei che tutti coloro che perseguitano Dio e la sua croce, conoscessero la pace e il coraggio degli amici della croce, perché sono turbati e confusi. Sarebbero in una sorta di stupore, che io chiamerei una fede quasi stupefacente e miracolosa, in mezzo a tutta questa desolazione. Coraggio e perseveranza, Dio lo compirà. Dio lascia passare questo sforzo, questo terribile sforzo in breve tempo. La sua adorabile voce, pronuncerà una fine, e darà a coloro che hanno sofferto, la felicità di gioire in pace e in gioia. Questa è la mia ultima parola, che estendo alle vittime e agli amici fedeli e devoti di Gesù. Questo messaggio, acquista una rilevanza particolare quando lo mettiamo in relazione con le rivelazioni di Garabandal. Concita González, la principale veggente, nel 1965, confidò a madre Nieves Garcia, dettagli cruciali sull'avvertimento, che si collegano direttamente alla profezia di Marie Julie Gianni. Secondo Concita, l'avvertimento sarebbe giunto in un momento di profonda crisi ecclesiale, specificamente dopo un importante sinodo della Chiesa. Inoltre, parlò di un piano satanico, per stabilire un governo e una religione mondiali. Un tema che riecheggia le iniquità velate, di cui parlava Marie Julie Gianni. Le profezie di Garabandal, aggiungono ulteriori dettagli cruciali. L'avvertimento giungerà nel momento più buio, quando la Chiesa sarà divisa e ferita, in mezzo a una persecuzione di tipo comunista, e con le nazioni esauste per guerre, crisi economiche, e carestie. Le veggenti, parlarono di un momento in cui il mondo sembrerà completamente perduto, ma sarà proprio allora, che Dio interverrà in modo straordinario. Ed è qui che entra in gioco padre Michel Rodrigue, le cui rivelazioni, sembrano fornire gli ultimi pezzi del puzzle. Secondo il sacerdote, ci sono due segnali inequivocabili, che precederanno l'avvertimento. Un cambiamento nella liturgia della consacrazione eucaristica, e una crisi mondiale, che porterà le potenze nucleari sull'orlo del disastro. Questi segnali, si allineano perfettamente con quanto visto da Marie Julie Gianni, quando parlava di un serio avvertimento, che sarebbe stato ovunque contemporaneamente, e con la crisi globale prevista a Garabandal. Il sinodo sulla sinodalità, che si concluderà nell'ottobre 2024, potrebbe essere proprio quel grande sinodo di cui parlava Concita. Recenti messaggi, ricevuti da veggenti come Manuela Strach di Sievernich, e Pedro Regis, sembrano confermare questa possibilità. Il 25 settembre, Gesù disse a Manuela. Pregate specialmente per il sinodo. Il tentatore apparirà in esso. E la Vergine disse a Pedro Regis il 31 agosto. Quando tutto sembrerà perduto, il Signore agirà a favore dei Suoi eletti. Ma c'è un ulteriore aspetto delle rivelazioni di Padre Michel Rodrigue, che merita particolare attenzione, perché ci offre una chiave di lettura fondamentale, per comprendere il nostro tempo. La sua profezia, è straordinariamente completa, perché evidenzia un legame profondo e inscindibile. Gli eventi che riguardano la Chiesa, sono intimamente connessi con il destino dell'intera umanità. Non si tratta di due storie parallele, ma di un'unica narrazione, in cui lo spirituale e il temporale, si intrecciano inseparabilmente. Quando Padre Michel parla dei due segni che precederanno l'avvertimento, non sta semplicemente elencando due eventi distinti. Sta piuttosto rivelando, come l'oscuramento della Chiesa, si rifletta direttamente nelle tenebre che avvolgono il mondo. È come se l'eclissi spirituale che sta vivendo la Chiesa, proiettasse la sua ombra sull'intera umanità. L'offuscamento della verità nella Chiesa, si traduce in una confusione globale, che porta l'umanità sull'orlo dell'autodistruzione. Ecco perché l'avvertimento, pur essendo un evento universale, che toccherà ogni essere umano, ha le sue radici più profonde nella crisi spirituale della Chiesa. Come una madre sofferente, i cui dolori si ripercuotono su tutta la famiglia, la malattia spirituale della Chiesa, si propaga nel corpo dell'intera società umana. Ma proprio come una madre guarita, porta guarigione a tutta la famiglia, così la purificazione della Chiesa attraverso l'avvertimento, diventerà fonte di rinnovamento per l'umanità intera. Cosa succederà dopo l'avvertimento? E qual è il vero ruolo di concita di Garabandal in tutto questo? Per saperlo, cliccate sul video che è comparso sul vostro schermo. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo al prossimo video.